vai la prova numero uno con la bottiglina piena prova numero due numero due nulla da fare la bottiglina continua a salire ma devi dire che è una bottiglina romanista ma guarda che cacchie roba ho messo un dito davanti alla fotocamera perchè c'è un insetto sopra il collo noi facciamo la prova numero tre che è la più difficile la prova numero tre svuotiamo la bottiglina è palesemente svuotata guardate anche l'acqua che scende c'è un meglio sale non c'è l'acqua dentro capito che la fa andare però c'è una pendenza si si funziona anche così quindi come se si caricasse non c'è l'acqua dentro non c'è l'acqua dentro non c'è l'acqua non c'è l'acqua ma qua è un po' in discesa non c'è l'acqua ma non c'è l'acqua mi sento ma non c'è l'acqua ma non c'è l'acqua mi sento io voglio provare un attimo questa palla Grazie.